Gentili telespettatori, buona giornata. Ebbè, ultima generazione, ultimo sfregio al patrimonio artistico, culturale italiano, vanno in giro ad imbrattare i monumenti. Attenzione, loro ingenuamente e superficialmente pensano che utilizzare vernici lavabili, lo dice la parola, lavabile, la lavi, prendi una spugna, fai così, ed è quante storie, noi coloriamo il monumento, fa tanta notizia, ma poi vai lì con una spugnetta, è lavabile, è finita lì, tutte queste storie. Questo è dovuto all'utilizzo dei termini corretti, alla poca conoscenza, sono persone che conoscono poco, poca cultura generale. La famosa vernice lavabile è più facile da togliere di quella non lavabile. Bene, attenzione che la vernice lavabile è aggressiva chimicamente sui monumenti come su qualsiasi cosa. Se la vernice lavabile non viene tolta entro dieci minuti, cosa che risulta impossibile? Come fai? Da quando uno di questi imbratta un monumento a quando arriva una ditta specializzata passano giorni, odore. Quindi dopo dieci minuti queste vernici famose lavabili cominciano chimicamente ad aggredire il monumento, poi soprattutto se sono superfici, marmore, sono superfici antiche, il danno c'è. Quindi non è solo pulirlo, quante storie, quante storie. Non è solo la questione di pulirlo, che costa molti soldi, perché una ditta specializzata che ti viene a pulire il monumento costa molti soldi. Poi il monumento viene rovinato. Quindi non c'è solo un danno per la ripulitura, cioè il costo della ripulitura. C'è anche un danno di immagine, perché un monumento sporco in una città turistica provoca un danno economico di immagine che è difficilmente quantificabile, ma probabilmente tu in un'intera vita non riesci a ripagare un danno d'immagine fatto a una città d'arte. Quindi quando imbratti un monumento dove dovresti essere condannato a vita, tutto il tuo stipendio lo passi al comune per il danno d'immagine arrecato. A ogni conseguenza deve esserci una, a ogni azione una conseguenza. Se tu sei maggiorenne eccetera eccetera e fai una roba del genere devi pagare le conseguenze. E così la mossa del governo. Adesso i vandali dovranno pagare per le loro malefatte. All'arco della pace è l'ennesima azione considerata da parte di chi, affermando di dover difendere il pianeta, danneggia monumenti importanti del nostro patrimonio culturale. Dice Gennaro San Giuliano, ministro della cultura, riferendosi a un gruppo di ultima generazione che nei giorni scorsi ha gettato della vernice rosa sull'arco della pace a Milano, tra la furia dei passanti. Le intenzioni del governo sono chiare. Nei confronti di Costoro è inaccettabile ed è irresponsabile mostrare atteggiamenti cedevoli, se non addirittura ammiccanti, come fa la sinistra aggiungo io. Addirittura a Firenze avevano invitato uno di questi vandali a parlare in una conferenza. Robe incredibili. Però per quando parliamo di sinistra e parliamo di fiancheggiamento dell'illegalità è un qualcosa di veramente concreto che vi ho documentato in decine di video. Ma torniamo al governo che dice nei confronti di queste persone è irresponsabile mostrare atteggiamenti cedevoli, se non addirittura ammiccanti o amichevoli. Tra qualche settimana, dopo l'approvazione definitiva da parte della Camera, diventerà legge dello Stato la norma che consentirà di far pagare ai vandali i costi degli interventi di ripristino integrale del bene danneggiato. Chi distrugge dovrà pagare di tasca propria. E io mi chiedo perché fino adesso non era così? Cioè tu mi imbratti un monumento, io devo chiamare una ditta specializzata che vuole 100.000 euro e nessuno poteva debitare questi soldi ai vandali? Mi sembra qualcosa di assolutamente assurdo. È come se tu distruggi la vetrina di un negozio perché chissà perché e poi non devi pagare la vetrina che hai distrutto? C'è bisogno di una legge? Davvero, davvero prima del governo di centrodestra uno che vandalizza qualcosa poi non deve pagare? Mi sembra una cosa veramente ma veramente assurda. infine dice il ministro ricordo a chi si rende responsabile di simili atti vandalici che attaccare il patrimonio culturale della nazione significa danneggiare beni collettivi che rappresentano la ricchezza di tutti. Ciascun cittadino, come sancisce l'articolo 9 della Costituzione, ha il dovere di preservare questa risorsa preziosa. Il disegno di legge così voluto dal governo prevede l'introduzione di una sanzione amministrativa, una multa, compresa tra 20.000 a 60.000 euro per chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte irreversibili e non fruibili beni culturali o paesaggistici proprio altrui. Per chi deturpa, imbratta o destina i beni culturali a un uso pregiudizievole o incompatibile con il loro carattere storico artistico, la sanzione sarà compresa tra i 10 e i 40.000 euro. I proventi saranno devoluti al Ministero della Cultura affinché siano impegnati prioritariamente al ripristino dei beni danneggiati. Ma attenzione, non c'è solo la multa per aver fatto l'atto criminoso, poi c'è anche il costo della ripulitura. Quindi tu puoi prendere ad esempio una multa da 20 a 60.000 euro, 50.000 euro di multa per aver fatto quell'atto e poi il comune ti dice, che si costituisce parte civile, ho speso 74.500 euro con la ditta specializzata per ripulire il monumento. Quindi paghi 50.000 più i 74.000 più paghi gli avvocati che ti sono serviti per difenderti, per modo di dire, in tribunale. Ti trovi magari da pagare 150.000-200.000 euro per aver imbrattato un monumento e quei 200.000 euro te li trovi da pagare per tutta la vita. Il costo, il valore di una casa, per la tua stupidità, poi la paghi. La paghi. E quindi da ogni stipendio che tu avrai col lavoro ti verrà sottratta una grossa percentuale per pagare a vita la tua bravata criminosa. Perfettamente giusto. Grazie a tutti e arrivederci a presto.